è buon natale ragazzi così non c'è un peggio di decorazione qua dentro per carità e l'unica cosa che si vede natalizio è il mio berretto però ci pensa overwatch a regalarci un po di natale così diciamo così e sono tutti a tema natalizio chi è alfa chi è bobo natale io se sono un po comunque ragazzi tralasciando la magia del natale overwatch ci fa ancora dei pacchi in regalo che stavolta spacchettiamo subito così perché sono curioso terribilmente dov'è la mia schiena talizia cominciamo bene il video bellissimo ma ci sono rimasto di merda non non c'è un perché la schiena taisoni niente va bene lasciamo stare andiamo subito su gioca su arcade perché abbiamo mai operazione palla di neve e non chiedetemi che cazzo è stata modalità perché la sto vedendo adesso affronta una serie di combattenti 6 design alla mappa un giocatore san maio che facendo con un potente sparaneve un'arma colpo singolo che può essere caricata presso i mucchi di neve è una battaglia palla di neve insomma subito concentrateli occhio alle munizioni e completate la mission merda ho sparato l'unica palla di neve che avevo oh cazzo e mo i mucchi di neve per ricarica aree qua qua questo ma me l'ha fottuta la stronti bastardi non mi fanno ricaricare come la p... non posso picchiare a pugni merda ma se stronzi non mi fanno ricaricare oia boom headshot ma vabbè ho capito ma che cazzo ho finito la neve oh ti avevo quasi preso eh si però ora ti prendo il neve is boom la cattiveria della palla di neve oh ma che neve te dentro dentro oh oh eh vabbè eh vabbè eh vabbè sei morto oh ping oh 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 ho che freddo ti avevo quasi preso non giù non giù e vabbè ho capito quanta gente addosso il fuggitivo ah l'ultimate serve a ricaricare continuamente le palle di neve ma vaffanculo benvenuti alle robas questo è già cominciato che succede? ascoltate siete qui perché rappresentate il meglio del meglio si lo so ci penso io grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cazzo... Va benissimo. Guardatelo. Grosso aiutante di Babbo Natale. Si chiamerò... Ho Ho Hog. Perché... Va bene ragazzi. Io direi... Non so quanto può essere venuto lungo il video... Ma io vorrei provare... Così, giusto per... Una volta il mistero d'inverno. È la modalità... Eroi casuali praticamente. Ogni volta che muori... Ti cambia personaggio. Non so perché... Gli hanno cambiato il nome. Però... Proviamola. Vediamo se riusciamo a prendere un altro forse. La mia tarretta... La mia tarretta... La mia tarretta... Cosa sono queste cose? Che cos'è? Niente, è persa! Ciao cari! Va bene, va benissimo! Bene ragazzi, da solito vi invito a lasciare un commento, un like, a condividere il video più che potete E non mi sa che auguro abbia un buon Natale Spero che le vostre vacanze procedano nel migliore dei modi Vi lascio qui con la famiglia di Bobbo Natale E niente, se non siete anche iscritti, iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi! Ma io ti amo! Ciao! Ciao!